Buongiorno a tutti Oggi voglio mostrare come fare i video come far partire Pokémon AshGray Suggito AshGray Sbagliato Innanzitutto apriamo Google Aspettiamo che se me lo apre Si mette sempre 30 anni Eccolo Si è aperto Adesso andiamo su Segnalibri La chiamiamo a pagina Chiamiamo anche il download Scendiamo sotto 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 Bell'ultimo Ecco Ecco qua AshGray Beta Qui c'è il coso per Che lo puoi mettere nella descrizione Allora Clicchiamo qui per il download Eccolo Io adesso non lo scarico Però vi dico dove Dove ve lo salverà Aspettate che scarichi Dopo andrà qui Andrà Si metterà lì E vi scaricare a questo Questo qua Voi lo strarrete Si formerà una nuova cartella Aprite la cartella E ci saranno questi programmi Allora Voi innanzitutto aprite Lunar X Applichiamo 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 la patch La patch La patch X Poi AshGray Beta E poi il download Qui Infatti la rom Qui adesso non l'apro Perché l'ho già applicata E dopo Allora Dopo ho scaricato il download Che adesso Vi metterò Ecco Vi farò vedere adesso Come si fa il download Che c'è la cloud Aperto Clicchiamo qui Clicca qui per il download Della rom Aspettiamo 6 secondi 5 4 3 2 1 Clicca qui per il download Per far start Lo salvate Lo fate partire Una volta partito Lo estrarrete E vi si aprirà Questa cartella Lo cliccate Ecco Qui c'è tutto A voi però Che vi dovrà interessare Sarà questo Che Da voi però Se non avete WinDS Pro Vi si Aprirà come Un'icona normale Con scritto Gunboy Advance Allora Prima di tutto Dovete avere per sforzo WinDS Pro E dopo Lo metteremo in un altro tutorial Per spedicarlo E poi Quindi abbiamo Apriamo questo qua Lunarips Apriamo Lunarips Applichiamo la patch Apriamo Ascribe Beta Poi andiamo Poi andiamo In desktop Ascribe Beta Apriamo Ecco Poi Fate apri E farà Guardate La patch Completata E ve l'ha applicata Adesso Adesso voi aprite questo Mi raccomando Il download dovrà essere Per fatto in inglese Se no la patch Non si applicherà Ora scegliamo L'emulatore Io scelgo Nostro DPA Perché VPN Link Non funziona Dopo vi dirò tutto Sugli emulatori Ascribe Beta Io ho già avuto Ho già fatto una partita Cinque ore Vabbè Però Se volete Vi faccio vedere anche Che funziona Questo è quello che ho fatto Che punto ero Prendo Ecco Eccomi qui E funziona Qui da me si vede rosso Perché appunto Gli ho applicato Un po' Perché Gli ho messo la sveglia Un po' più tardi Quindi adesso Mi si fa E mi chiede rossa Come potete vedere Io Sono qui Adesso Non mi ricordo Se ho Preso la medaglia Perché l'avevo presa Non so se ho perso l'argo Ok Ho perso l'argo Vabbè Fa lo stesso Comunque Comunque salvo Non è perché Mi sono dimenticato Prima di salvare Vedete come avete visto Il gioco funziona Alla prossima tutorial Buon Buon Videogioco E arrivederci Ciao